ciao amici sono marianna di zandegu e con questi video vi rubo solo 5 minuti per parlarvi di comunicazione quali sono le peggio gatte da pelare ecco vedremo come pelarle senza sforzo oggi parliamo di libri utili per una buona comunicazione perché dei libri è vero sul web è pieno di risorse utili gratuite davvero pazzesche però in questo caso i libri hanno una marcia in più siete lontani dal pc siete più concentrati vi ritagliate del tempo per approfondire e avete più tempo per metabolizzare i concetti quest'anno ho letto tantissimi saggi e manuali di comunicazione che mi sono stati enormemente utili nel lavoro e che possono essere una grande fonte di nozioni e di spunti per migliorare nella vostra scrittura online vediamoli insieme strategia questi libri sono molto teorici a volte persino un po astratti ma penso che siano molto utili per ragionare su come scriviamo e su come le persone leggono i nostri testi online vi consiglio quindi web usability 2.0 di jacob nielsen e oa loranger sono i guru dell'usabilità online gli utenti come usano il web e come possiamo quindi soddisfarli come si può strutturare una navigazione e un'architettura delle informazioni progettate per facilitare la vita al nostro cliente le persone come leggono online come scrivere testi utili come disporre i contenuti e presentare i prodotti un altro saggio molto interessante è comunicazione e persuasione di nicoletta cavazza spiega quali sono le tecniche di persuasione nella pubblicità e nei media per portare dalla nostra parte le persone fidelizzarle sedurle e farle acquistare non è una lettura facile ma è davvero affascinante e non scontata e grazie al cielo è scritto in modo davvero molto fluido metodo la collana chiavi di lettura di zanichelli è probabilmente la collana più bella al mondo dopo quella dei prof di zandegu che risata spontanea i libri sono tutti super brevi concentrati unici di consigli sensatissimi e ben presentati sono davvero di quei libri che ti danno degli strumenti da mettere in pratica immediatamente i miei preferiti sono quelli scritti da luisa carrada io vi consiglio scrivere un email struttura e sintassi scrivere che bello e guida di stile scrivere e riscrivere con consapevolezza spiegano in poche parole ma super dense come scrivere dalla parte del lettore in maniera efficace e con un occhio di riguardo per la grammatica e la sintassi i libri sono strapieni di esempi si leggono in pochissimo tempo ma gli effetti benefici sui propri testi durano una vita un altro testo per me davvero formativo e testi che parlano di valentina falcinelli è tutto dedicato al tono di voce nella comunicazione aziendale il libro è proprio carino pieno di foto a colori tanti esercizi ed esempi pratici l'unico difetto se proprio devo andarne a trovare uno è che il fonte un po piccolo ma è una sciocchezza perché invece i contenuti sono da 10 e lode il tono di voce poi è la gatta da pelare per eccellenza quando si scrive per lavoro e qua ogni dubbio è sciolto ispirazione ragionare sulla scrittura può anche essere un ottimo modo per rispolverare dei grandi classici che emozionano incantano ispirano per esempio potreste rileggere le lezioni americane di italo calvino sei lezioni che calvino aveva preparato per l'università di harvard nel 1985 e mai tenute la più famosa è quella sulla leggerezza che è così bella da essere a tratti commovente le altre lezioni sono su rapidità esattezza visibilità molteplicità e coerenza se scrivete per lavoro non potete non averle lette una fonte di meraviglia continua e anche un bel modo per ragionare sul fatto che le parole sono un fantastico terreno di gioco sono le favole al telefono di gianni rodari io vivo nel culto di gianni rodari penso che sia un genio le favole sono sì per bambini ma noi adulti ne restiamo comunque incantati per la delicatezza delle trame per le trovate buffe e per l'incredibile utilizzo delle parole leggetene una ogni sera e nutrirete così il vostro bambino interiore è importante che questo bambino sia sempre bello grassoccio se vogliamo scrivere ogni giorno testi che convincono ed emozionano in ebook vi consiglio anche tre ebook pubblicati da zandegu che in questi anni ho riletto più volte perché sono un grandissimo concentrato di concretezza e buonsenso sono scrivi più bianco di chiara gandolfi di cosa scriviamo quando scriviamo per lavoro e scrivere email costruire relazioni questi ultimi due sono entrambi di anna maria anelli scrivi più bianco vi da tutte le basi per addentrarvi nel magico mondo del copywriting e tantissime indicazioni per scrivere testi brillanti che si distinguono dalla massa di cosa scriviamo quando scriviamo per lavoro invece vi dà delle indicazioni per scrivere al meglio le pagine chi siamo e le sales page in modo che queste informino chiariscano e colpiscano una cosa non facile e che anna maria spiega benissimo scrivere email costruire relazioni invece da preziose indicazioni su come scrivere al meglio le email in modo da aiutarci a costruire dei rapporti di lavoro sereni e duraturi con clienti e collaboratori bene siamo giunti alla fine di questo video spero vi sia stato utile per ampliare la vostra biblioteca e allargare i vostri orizzonti in fatto di scrittura per lavoro se questo contenuto vi è piaciuto seguiteci qui su instagram oppure iscrivetevi alla nostra newsletter zandegu e corsi in aula e online di comunicazione grafica e scrittura manuali per freelance e consigli su libri film musica serie tv insomma tutto quello che serve al tuo progetto creativo ci vediamo alla prossima puntata